Ciao a tutti ragazzi e vi da benvenuto in un nuovo video oggi vi spiego come si fa a copiare un file e incollarlo per esempio su una cartella allora iniziamo col preparare aspettare ragazzi col preparare una nuova cartella cliccando tasto destro tasto destro nuovo cartella a questo punto dobbiamo dare io metto prova e faccio così ora vado a prendere il file che mi interessa per esempio questa foto del canale ci sono due modi trascinarla direttamente dentro la cartella oppure fare copia e incolla o meglio oppure con i tasti di rapina ctrl c ctrl v bene io ora li metto di nuovo a posto il file vabbè comunque eliminò la cartella che era solo per farvi vedere bene ragazzi con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettere un bel mi piace se volete farmi domande potete farlo sotto nei commenti attivate la campanellina e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao